ok vi faccio vedere un appartamento a nuvolento stupendo tutto completamente rimesso a nuovo impianti elettrici idraulici illuminazione serramenti tutto guardate perché è uno spettacolo sembra di essere in una suite di un albergo è spettacolare cucina comoda comoda con una bellissima finestra esposta sud con tutto in illuminazione fantastica poi andate a vedere anche le foto e guardate questo è l'ingresso l'ingresso è una cosa artistica porta blindata nuova tutto nuovo tutto guarda che soggiorno guarda che nuova che poi anche un terrazzo fuori che ti faccio vedere nel prossimo filmato